E cambiamo argomento, la concessione per le derivazioni idroelettriche saranno rilasciate dalla regione. Al Pirellone è stato approvato infatti un provvedimento proprio per quest'altro passo in avanti per il federalismo demaniale. Sentiamo l'assessore regionale Marcello Raimondi. Sì, è veramente una rivoluzione perché fino adesso le grandi centrali idroelettriche che producono il 45% dell'energia idroelettrica italiana sono in Lombardia e fino adesso erano state date in concessione alle varie società che producono energia elettrica con queste grandi centrali erano state date dallo Stato ancora con dei reggi decreti degli anni 30 che poi sono stati via via continuamente prorogati con dei costi molto residuali per le varie società. Oggi noi attuiamo come prima regione in Italia le potestà che ci vengono date dal federalismo demaniale e quindi sarà la regione a dare le concessioni per le cosiddette derivazioni idroelettriche, le grandi derivazioni elettriche. Noi lo abbiamo fatto in una modalità innovativa, assolutamente innovativa, per cui la proprietà di queste centrali non sarà solo della regione come dice la legge nazionale ma sarà anche dei comuni e delle province interessate da questi grandi impianti e tutti gli enti locali beneficeranno di importanti proventi che derivano dalla produzione di energia idroelettrica e non solo di canoni quasi simbolici come quelli che venivano dati fino adesso.